Fino a due ore di attesa agli imbarcaderi di Messina e Villa San Giovanni e traffico sostenuto anche sulla Salerno Reggio. Sin dalle prime ore del mattino, domenica quindi come sabato, la riapertura del viadotto Italia e gli interventi conclusivi che hanno dato sfogo alla viabilità da e verso nord, d'altronde hanno consentito di attenuare gli effetti del controesodo che conclude la penultima settimana di agosto in una regione che di questi tempi in passato segnava sui diari giornate da incubo più che da bollino nero. Non è un caso, d'altronde, che qualche rallentamento si registri solo in prossimità dell'unico cantiere rimasto aperto tra Mormanno e Laino Borgo, in provincia di Cosenza, nel tratto oggetto del tragico crollo che il 2 marzo scorso è costato il cedimento di una campata del viadotto Italia e la morte di un giovane operaio. Traffico intenso anche lungo la strada di grande comunicazione Ionio Tirreno, lungo le statali 18 e 106 Ionica, il tutto monitorato con attenzione da ANAS e Polizia Stradale. Grazie a tutti.